Ora parliamo di arte e cultura, animazione culturale, arte e improvvisazioni. Oggi a Chiavari la giornata conclusiva di Art Boom. Ci siamo stati con Bianca Scartezzini. 20 giovani artisti e creativi sono stati protagonisti al centro giovani Chiavari del collettivo Art Boom. Un vero e proprio incontro culturale che finisce oggi. Una mostra dalle diverse sfaccettature realizzata da talenti che si sono espressi con il loro estro. Poi anche la mostra fotografica a cura di luce e poi le creazioni di boda che sono state fatte in questi mesi di lavoro. E la fotografia ha fatto risaltare la profondità di una giovane che ha iniziato a scattare a 14 anni. Cerco di portare il mio stile verso la pop art, infatti come si può notare in alcune foto aggiungo dei segni grafici. Mi ispiro a Andy Warhol che è il mio artista preferito e i segni grafici come possiamo vedere in questa foto sono per esempio questi due. Tra i fulcri dell'evento anche il settore di moda artigianale con in evidenza la cura dei dettagli. Non soltanto sulla shopper ma anche sulla camiciola. Abbiamo creato una sorta di collana con le sue grafiche floreali e poi un bijou a corollario del progetto. Schiavari soddisfatta per una manifestazione dedicata alle generazioni che stanno emergendo. I giovani non si sopravvalutano, si sottovalutano e hanno bisogno di un ambito, di qualcosa, di qualcuno che li aiuti a tirar fuori la loro vera capacità.